Torna al parco della Cecinella, Cecina Mare, il meeting internazionale antirazzista dal 2 al 4 settembre prossimi. Un meeting sui temi dell'antirazzismo promosso da Arce con il patrocino della regione toscana. Edizione numero 27 per una manifestazione che torna e si rilancia con un programma ricco di ospiti e con temi di stretta attualità su tutti l'Afghanistan. Formazione, confronto e idee. È la manifestazione di più lunga data che esiste in Italia su questi temi. È un'occasione importantissima per ritrovarsi, per parlare delle questioni attualissime, come ci dimostrano le cronache di questi giorni, dell'immigrazione, dell'accoglienza. Vogliamo dedicare questo meeting a Ibrar. Non diciamo il cognome per proteggere i suoi familiari che sono ancora in Afghanistan, a Kabul. Una persona morta nel primo attentato dell'Isis di poche ore fa e che era stato al meeting antirazzista qualche anno fa, profugo dall'Afghanistan, riparato nei progetti Sprar di Arci a Caltanissetta e che al meeting di Cecina raccontò la sua storia. Ritornato a Kabul per recuperare il ricongiungimento familiare, la moglie e il figlio, è stato purtroppo vittima dell'attentato mentale.